buonasera siamo con la professoressa Alessandra Nivoli che dirige la clinica psichiatrica dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari ma è anche responsabile dell'unità di vittimologia buonasera professoressa benvenuta con noi lei sarà protagonista di un incontro di un talk estremamente importante in cui nell'ambito della della sessione dedicata alle donne protagoniste in sanità nel forum sistema salute che si terrà il diciannove il venti ottobre alla stazione Leopolda di Firenze di un talk molto particolare in termini di prevenzione e promozione di una salute mentale lei con le sue competenze e ovviamente il lavoro che svolge tutti i giorni diciamo coinvolgeremo il pubblico in quello che è dato da una violenza interpersonale che cosa come dire può provocare in termini di disagio mentale di ripercussioni sulla salute mentale e quindi sulla violenza di genere perché sappiamo lo sappiamo bene sono sempre più le donne a patire questa condizione quindi in fondo questa violenza interpersonale si rappresenta come una violenza intima ma dottoressa è possibile riconoscerla proprio in termini di prevenzione di salute mentale? Allora Beatrice la ringrazio di questa domanda ed è una domanda molto difficile a cui gli scienziati gli studiosi clinici stanno cercando una risposta quello che lei dice in termini di prevenzione è importantissimo noi abbiamo in tutti gli ambiti della salute compresa la salute mentale la prevenzione primaria secondaria e terziaria e la prevenzione maggiore quella che leggiamo anche in tutti i programmi internazionali ma la leggiamo anche nella nella convenzione di Istanbul no quella proprio contro la violenza intima e sulle donne e sulle ragazze ecco la prevenzione primaria è la parte più importante che noi dobbiamo mettere in atto su tutta la popolazione generale ma è anche la parte più difficile quindi per rispondere alla domanda è possibile riconoscerla è difficilissimo riconoscerla le donne le vittime parliamo di donne perché come diceva lei nove a uno sono noi il rapporto donne uomini come vittime di violenza interpersonale ecco le donne spesso confondono degli elementi faccio solo qualche esempio per essere per semplificare cioè confondono la patola la gelosia il controllo no con l'eccessivo amore allora noi sappiamo che sono due cose completamente diverse ma ancora oggi nel 2023 molte vittime che vengono da noi raccontano in questa maniera così ingenua ecco lui mi amava talmente tanto che mi controllava il cellulare ecco questo è una frase che per noi clinici è terribile però è patognomonica di un atteggiamento nel quale ancora le donne giovani o meno giovani non riconoscono i segni premonitori di una violenza che poi è un paradosso no la gelosia si staura su forme di insicurezza e di mancanza di fiducia quindi diventa invece il potere di sopraffazione dell'uno sull'altro e però non avere la capacità di distinguere secondo la sua esperienza quanto incide da un punto di vista ecco di formamentis culturale sociale e quanto invece come lei sicuramente si occuperà è derivato per esempio magari da un disagio emotivo psicologico certo no e allora questa anche per rispondere a questa domanda dovremmo stare qui ore però per semplificare allora teniamo conto che la violenza interpersonale è un evento multifattoriale cioè legato all'embricarsi di fattori tanti tipi di fattori che hanno un diverso peso per esempio ci può essere una vulnerabilità biologica una persona molto fragile poco assertiva molto insicura con una depressione subclinica può essere più facilmente vittima di violenza interpersonale rispetto a una persona che invece non ha ha un temperamento invece di essere un temperamento depressivo un temperamento ipertimico per esempio quindi questo oppure la cultura no noi abbiamo eh adesso che 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 ci apriamo a tutta una serie di culture vediamo come il ruolo della donna e le relazioni tra uomo e donna impongono a certe volte degli stili e dei ruoli particolari che vengono accettati da uno e dall'altro quindi anche quello quindi anche i fattori sociali culturali hanno un ruolo e anche i fattori della propria vita vissuta se io ho visto i miei genitori in cui mia mamma veniva maltrattata dal mio padre allora io accetterò quindi anche questa diciamo questa eredità interfamiliare della violenza e dell'accettazione e così l'uomo vedrà il padre violento e potrà accettare di essere un uomo violento sarà normale quindi io ho fatto solo tre esempi per dire tre tanti sono i fattori che possono contribuire la patologia mentale legata in maniera doppia nel senso che può essere prima può essere un fattore eh determinante o comunque influenzare il fatto di essere vittima o carnefice ma può anche venire dopo la violenza come conseguenza psicopatologica post traumatica beh allora professoressa Nivoli ci ha dato soltanto un breve assaggio di quello che sarà questa sessione questo talk che nasce soprattutto dall'idea di prevenire la violenza di saper raccogliere quei segnali che possono essere d'aiuto alle donne che invece di rimanere in molti casi devono scappar via ma soprattutto per fare formazione ai più giovani e alle più giovani perché non si perpetui un discorso come lei diceva sono molti i fattori ma che sia almeno culturale andiamo almeno se laddove è possibile a invertire un un processo culturale quindi la ringrazio per essere stata con noi per il lavoro che svolge e diamo appuntamento a chiunque voglia comprendere come certe dinamiche si possano in qualche modo con grande impegno scardinare diamo appuntamento al forum sistema salute il prossimo 19 ottobre la ringrazio per essere stata con noi e buon lavoro grazie a lei buon lavoro Grazie a tutti.